ciao roberta un saluto a tutte le teste fiorite benvenuti per un altro video di noccioline oggi un po provocatoriamente devo dire la verità mi aggiungo alla lista dei libri per natale che roberta ha fatto in un video precedente lo faccio con un titolo del tutto anomalo che per alcuni magari potrà sembrare quasi uno scherzo ma uno scherzo non è stiamo parlando di detective culetto ebbene sì un personaggio che viene dal giappone e che al posto della faccia due rosei e rubicon di glutei ebbene sì la sua faccia è un sedere perché voglio parlarvi di detective culetto prima di tutto perché è geniale è una serie di libri che è anche un manga che anche una serie a cartone animati che in giappone ha avuto un successo enorme davvero ragguardevole in italia è pubblicato da panini e siamo già al terzo volume perché interessante perché ovviamente si rivolge ai bambini più piccoli è una una narrazione che un po a metà tra un illustrato un romanzo brevissimo e un manga un po tutte queste cose messe assieme ma è interessante perché fa riferimento è proprio la rappresentazione chiara plastica di come il mondo della del fumetto giapponese come detto più volte anche in altri video è gigantesco e pieno di contenuti molto diversi tra loro in questo caso detective culetto è veramente detective culetto cioè affronta le sue avventure risolvendole a colpi di puzzette facendo la felicità di tutti quei bambini che come sappiamo amano queste cose le puzze tutte queste cose qua è davvero interessante gli autori sì il libro è firmato da troll che in realtà è uno pseudonimo di due autori che sono yoko tanaka e masaide fukasawa fukasawa insisto su questa cosa al di là della dell'inevitabile divertimento vi assicuro la serie è davvero molto molto divertente molto assurda è quello su cui volevo fare una sottolineatura è che il fumetto giapponese non è come spesso siamo portati a credere solo o fumetto d'avventura o shojo manga no cioè o sentimenti per ragazze o storie avventurose piene di violenza di gente che si picchia si taglia pezzi in realtà offre una gamma enorme di sollecitazioni su tantissimi argomenti diversi e soprattutto c'è in giappone una grandissima con un grandissimo proliferare di contenuti umoristici spesso assolutamente demenziali in questo caso direi che siamo siamo ci siamo assolutamente dentro che fanno riferimento a un mondo di rifiuti di richiami al teatro a tutto modo di intendere proprio in generale la comicità che è molto distante dal nostro chiunque abbia la memoria un po più lunga ricorderà per esempio durante gli anni settanta e ottanta una collana di riviste e di contenuti che andava sotto questo questa definizione di nanto canaru the show che proponeva storie brevi un umorismo assolutamente underground assurdo in cui questo tipo di contenuti così così poggiano le loro fondamenta quindi se avete qualche bambino che magari fa un po fatica a leggere le cose più tradizionali più leziose più carucce e corrette beh allora devo dire che detective culento fa assolutamente al caso vostro se non altro perché riesce a stimolare così una un sorriso una sana curiosità secondo me edizione molto bella curata da panini per adesso in italia abbiamo solo i libri e come dicevo in tre volumi e quindi con la possibilità anche di continuare eventualmente alla lettura in giappone però il fumento è stato cioè il contenuto è stato derivato anche come manga per sempre per bambini e ha una serie televisiva che spero vedremo anche anche qui da noi prima o poi con questo mio personale assolutamente fuori fuori dal dalle convenzioni suggerimento per i regali di natale vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di nocciolino video ciao Roberta ciao a tutte stesse fiorite